. Essere liberi, senza possedere nulla, tendendo la mano a ciò che Dio ci dà, e ci dà così tanto. Senza una regola approvata dalla Santa Chiesa, l'ordine di Francesco non può essere creato. . Hanno paura della debolezza, ma con la paura il mondo non avrà mai pace! La fraternità non può essere un rifugio perché infrange la legge, questo non è possibile. Hai un peso nel cuore. Non vuoi più il cordine? Elia, conosci la gioia di cui Francesco parla? Vivere tra i più poveri e obbedire alla propria coscienza. La vita che Francesco ci offre è un sogno magnifico. Ma per viverlo dovete renderlo possibile.